Buongiorno dal DigitalEa in BIM, dall'arena Enea Logicalsoft. Sono cominciati i nostri incontri, i nostri laboratori, i laboratori tenuti dai ricercatori Enea con gli ingegneri di Logicalsoft. Qui si parla di BIM e vediamo come affrontare il BIM con una chiave di lettura molto pratica, molto operativa. Lo vediamo attraverso i nostri software, Traveloch è dedicato all'analisi strutturale e Termolog dedicato invece all'analisi energetica. Vediamo come sostanzialmente importare in maniera molto semplice i nostri software modelli BIM attraverso il file IFC. Questo permette poi ai nostri utenti di concentrarsi sul modello strutturale piuttosto che sul modello energetico e di avere poi uno strumento che nella maniera più semplice possibile mi permetta di interagire magari con altri professionisti perché terminato il modello con Traveloch o con Termolog posso a mia volta esportare un IFC. Anche in questa occasione il nostro stand è dedicato alla formazione perché oggi sappiamo che non è sufficiente il software ma è importante formare anche chi il software lo utilizza. Ecco che quindi i nostri software si fondono con la formazione e in questo modo i nostri utenti possono dedicarsi al progetto che è quello per cui sono preparati. Quindi progetto vuol dire poi progettare il comfort abitativo progettare anche la sicurezza degli edifici che abitiamo. La formazione per noi è un'attività costante, un'attività quotidiana sia attraverso dei webinar online sia attraverso incontri fisici, frontali. Siamo presenti in tutte le regioni d'Italia ormai abbiamo superato credo i 650 seminari tecnici gratuiti su www.logical.it nella sezione formazione troverete il calendario aggiornato e il messaggio è che con i nostri software non sarete mai soli ma sarete costantemente aggiornati avete costantemente strumenti per poter cogliere queste opportunità.